Amici siamo a Schiavonea in via Leonardo da Vinci e questa che vi stiamo per raccontare una situazione di grande pericolo anche se la temperatura è quella che siamo in primavera inoltrata tra poco questa zona diventerà molto molto trafficata e queste sono le condizioni di questo palo della luce. In questa strada c'è stato per molto tempo un disservizio, questa strada è stata completamente allagata per più giorni nei primi di dicembre, guardate le condizioni di questo palo completamente arrugginito e pericolante, qui ci sono diverse attività commerciali, c'è il lungomare frequentatissimo e questa è la situazione. Ci siamo rivolti alle autorità competenti, sono arrivati i vigili, hanno fatto un sopralluogo, si sono interessati della cosa, però diciamoci, anzi dobbiamo dire con grande prontezza, sono intervenuti venendo a dettagliare effettivamente con una relazione che cosa accade in questa strada, ma da più settimane interventi non ne abbiamo visti, è una situazione di grandissimo pericolo, qui è stata anche posta dai residenti una corda un po' per cercare di, forse anche per segnalare il pericolo e per cercare eventualmente nella malagurata ipotesi che potesse cadere il tutto, di attutire magari l'impatto violento, però assolutamente questo palo è da sostituire, c'è stata acqua di mare per più giorni e tutto marcito. Attenzione in via Leonardo da Vinci, è una situazione sulla quale intervenire a Doras, non è un servizio ironico, stiamo raccontando di qualche disservizio, è una situazione di grave pericolo e la responsabilità è lampante, bisogna intervenire al più presto.